Gravissimo incidente in tangenziale sud direzione sud Savona Piacenza nella tarda mattinata di oggi martedì 6 settembre 2022 a scontrarsi un opel agile a un tiro all'altezza dello svincolo sito interporto a bordo dell'auto madre e figlio che sono rimasti incastrati nella vettura secondo una prima ricostruzione sembra che il mezzo pesante abbia forato una gomma travolgendo l'auto che era ferma nella corsia di emergenza ad essere in condizioni più gravi e la donna trasportata in elisoccorso all'ospedale cto di torino ferito in maniera grave ma fuori pericolo di vita il ragazzino di 11 anni trasportato in ambulanza all'ospedale regina margherita con una frattura di un omero e ferite al volto